Un caro saluto a tutte le amiche e gli amici dell'Università della Terzetta di Villa Cidro, e in particolare al Presidente, l'architetto Antonio Piras. Io sono Giovanni Serreli, ricercatore dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR, e oggi, nell'ambito del ciclo di lezioni che con l'architetto Piras abbiamo inteso realizzare per quest'anno accademico su alcuni fra i principali personaggi della storia di Sardegna, vi parlerò in particolare di Mariano IV d'Arborea con la moglie Timbora del Rocabertì e con la loro figlia, la famosissima Eleonora d'Arborea. Approfitto dell'occasione per ringraziare anche le colleghe e i colleghi che hanno aderito a questa iniziativa e hanno trattato o tratteranno di alcuni fra questi personaggi. Con Mariano, Timbora ed Eleonora ovviamente siamo nell'ambito della storia del regno giudicale di Arborea. Lo scorso ciclo di lezioni avevamo visto per sommi capi ovviamente la storia giudicale dalle origini fino alla fine dei quattro stati giudicali sardi. Oggi ci soffermeremo ovviamente su quello di Arborea e in particolare sul Trecento, sul Quattordicesimo secolo. E in particolare partiremo da Ugone II. Ugone II è il padre di Mariano, di Mariano IV, che sale al trono nel 1321. E non appena salito al trono mutò la tradizionale politica di alleanze arborense e in funzione antipisana si alleò alla più grande potenza mediterranea di allora, la corona d'Aragona. E l'alleanza avvenne tramite il giuramento vassallatico di Ugone II per i suoi domini sardi nei confronti di Giacomo II, sovrano della corona d'Aragona. Questa alleanza vassallatica generò un grosso equivoco che scatenò una guerra secolare per tutto il Trecento sardo. Infatti, i sovrani della corona d'Aragona, Giacomo II, con l'appoggio appunto dall'alleato locale Ugone II per il regno di Arborea, nel 1323 organizzò la spedizione militare con a capo l'infante Alfonso, Alfonso il Benigno, e conquistò tutti i territori pisani in terra sarda. Ugone II pensava di avere dei benefici da questa conquista, di liberarsi dell'invadenza pisana e di magari ambire al ruolo di luogotenente del sovrano catalano-oregonese in questi territori appena conquistati. Invece, da questa operazione diplomatica e militare scatturì una lunghissima guerra. Qui vediamo delle rappresentazioni di fantasia di Mariano IV, di Timbora de Roccaberti, sua moglie, e della loro figlia Eleonora d'Arborea. Siamo tra gli anni Trenta e la fine del Trecento. Queste rappresentazioni di fantasia ci sono utili per chiarire che, attraverso le grandi figure di Mariano IV, di Timbora de Roccaberti e di Eleonora d'Arborea, passa la storia trecentesca del regno arborense, senza il quale questi personaggi non ci sarebbero forse stati, o comunque non avrebbero assunto l'importanza che gli è stata data poi dalla vasta letteratura che gli riguarda. Qui vediamo un'immagine dell'attore Simeone Latini che interpreta, nella fiction del Museo Omuda, Mariano IV de Basserra, sovrano di Arborea. Chi era il nostro Mariano de Basserra di Arborea? Era il figlio secondo genito di Ugone II de Basserra, sovrano di Arborea dal 1321 al 1335, colui che si alleò alla Corona d'Aragona e ne favorì e ne appoggiò la conquista dei territori sardi. Mariano nacque a Oristano probabilmente nel 1319. In pratica, Ugone II, con quella alleanza del 1321, divenendo vassallo personale di Giacomo II, aveva impresso una svolta geopolitica al regno di Arborea, legandosi alla più grande potenza mediterranea occidentale del Trecento in funzione antipisana. In questa carta vediamo rappresentata la situazione geopolitica dei primi decenni del Trecento in Sardegna. In verde è rappresentato il regno di Arborea, la parte storica e l'espansione due-trecentesca nell'antico giudicato di Logudoro verso nord. La parte in rosso sono i territori pisani in Sardegna, oggetto a partire dal 1323 della conquista catalano-aragonese. Vediamo la genealogia arborense partendo da Ugone II. Ugone II, che sposò una certa benedetta, regnò tra il 1321 e il 1335 ed ebbe parecchi figli. A noi interessano i primi. Pietro III, che gli succedette al trono nel 1335 e regnò fino al 1347, sposò Costanza di Saluzzo. Mariano, che divenne quarto d'Arborea succedendo a Pietro III dal 1347 fino al 1375-76, che sposò appunto Timbora del Roccavertì, e Giovanni, il fratello minore di Pietro e Mariano, che aveva sposato Sibilla da Moncada, più altri figli. Mariano IV e Timbora ebbero alcuni figli, parecchi figli, tre gli sopravvissero. Ugone III, l'erede di Mariano IV, che sposò una certa annasina di Vico e che regnò tra il 1375 e il 1383, Eleonora, che sposò Brancaleone e successe appunto a Ugone III nel 1383, in attesa della maggiore età dei figli, Federico e Mariano, e una sorella di Eleonora, Beatrice, che sposò Amerigo VI di Narbona. A conferma dell'accordo di alleanza fra Ugone II e Giacomo II d'Aragona, Mariano con il fratello Giovanni vennero inviati a Barcellona per essere educati come conveniva a loro grado. A Barcellona i due fratelli vennero considerati quasi membri della famiglia regnante e trattati con tutti gli onori. Mariano crebbe con il coetaneo Pietro, infante d'Aragona, che lo volle addirittura tenere le briglie del suo cavallo durante la sua incoronazione nel 1336. Dalla metà del secolo, 300, i due, Mariano d'Arborea e Pietro d'Aragona, in quanto sovrani dei rispettivi stati, Mariano del regno di Arborea e Pietro, sovrano della corona d'Aragona e quindi re di Sardegna e Corsica, diventeranno acerrimi nemici. I rapporti fra il regno di Sardegna e Corsica e il regno di Arborea, però, si fecero subito tesi. E, per provare ad attenuare il malcontento di Ugone II, che forse non aveva viste realizzate le sue aspettative con l'avvenuta dei catalano-oregonesi, il re di Sardegna, il 6 dicembre del 1325, lo nominò governatore di tutti i Sardi. Qui vediamo il documento della Cancelleria Barcellonese e qui vediamo la trascrizione di questo documento. In realtà è una nomina che non avrà seguito e resta fine a se stessa, un tentativo di dare una qualche soddisfazione a Ugone II d'Arborea, che però probabilmente non era quello che si aspettava. E infatti, appena dopo qualche giorno, Ugone II si lamentava dicendo che i Sardi, che si aspettavano di avere un unico re nel regno di Sardegna, avevano invece tanti re, quanti erano in pratica i feudatari del Calaritano. E questo perché sicuramente lui si aspettava di diventare luogotenente del sovrano d'Aragona nei territori conquistati e invece questi territori erano stati divisi tra vari feudatari. Addirittura, nel 1328, Ugone II chiese di poter scegliere chi tra i suoi figli sarebbe stato il suo successore, derogando alla primogenitura. Probabilmente già intravedeva che il suo primogenito Pietro, il futuro Pietro III, non era in grado di reggere il confronto, non aveva la personalità per reggere il confronto con la corona d'Aragona e voleva riservarsi il diritto di scelta. Erano questi segnali di un rapporto sempre più teso che prima o poi sarebbe esploso in guerra aperta. Qui vediamo appunto il documento con cui invece Alfonso, sovrano della corona d'Aragona e quindi re di Sardegna, Alfonso il Benigno risponde a questa richiesta di Ugone dicendogli che sì, gli concedeva la possibilità di derogare alla primogenitura ma non da questa generazione perché Alfonso conosceva benissimo Mariano IV e la sua tempra. Nello stesso anno 1336 in cui Mariano aveva avuto l'onore di tenere le redini del cavallo di Pietro IV per la sua incoronazione, sposo Timbora Timbors del Rocabertì che era nata era sua coetanea più o meno probabilmente era nata un anno prima di lui nel 1318 circa e morì anche undici anni prima di lui nel 1364. La famiglia dei visconti di Rocabertì conti di Peralta e Marchesi di Anglasola era una fra le più influenti autorevoli di tutto il Principato di Catalogna e dell'intera Corona d'Aragona era discendente infatti da Raimondo Berengario IV di Barcellona che nell'undicesimo secolo sposò la regina d'Aragona Petronilla dando avvio alla nascita della Corona d'Aragona Il padre di Timbora Dalmazio VII era un abile capitano di guerra che aveva combattuto anche in Sardegna durante la conquista del 1323-24 vediamo la genealogia di Dalmazio del Rocabertì con la figlia Timbora che sposa Mariano IV giudice d'Arborea sovrano d'Arborea un'altra figlia di Ugone Maria d'Arborea sposerà Guglielmo Galcerando del Rocabertì che erediterà le parti materne dei possedimenti della famiglia e la famiglia di Guglielmo Galcerando e Maria d'Arborea vivranno appunto nella penisola iberica gli studi più recenti basati sulle fonti coeve relative anche ai preparativi per le nozze ci fanno intravedere stili di vita degni delle corti regio medievali anche per Mariano e Timbora i servizi d'argento recavano lo stemma della casa d'Arborea sposando il Donnichello Mariano con Donnichello si intende principe nella terminologia sardo-arborense Timbora sposò nel bene e nel male la politica arborense di quella stagione del Trecento condividendo in tutto e per tutto le scelte del marito prima principe e poi sovrano d'Arborea qui vediamo l'unica probabile rappresentazione di Timbora de Rocabertì cerchiata di giallo che assieme al marito Mariano che è il primo alla destra presentano presentano a San Serafino il loro figlio primogenito Ugone il futuro Ugone terzo si tratta dell'architrave laterale della chiesa di San Serafino Aguilarza che come vedremo è messa in una posizione particolare tesa a propagandare appunto le sorti della famiglia reale di Arborea durante la sua formazione barcellonese nel 1331 il cadetto Mariano fu fatto signore di Goceano e di Marmilla dal padre Ugone secondo tra l'altro questa concessione di stampo feudale però ribadiva che non c'era nessun detrimento per l'erario reggio arborense cioè restavano in capo al regno di Arborea tutte queste signorie si trattava di una tradizione che affondava le radici nelle più antiche usanze giudicali basti pensare al logo salvadore titolo che veniva dato al donichello nel regno giudicale di Calari già dall'undicesimo secolo basti pensare alle curadorias affidate nei vari giudicati ai rampolli ai donichellos della famiglia regnante probabilmente per fare esperienza di governo una sorta quasi di associatura al trono secondo le mode del trecento cioè le concessioni feudali questa tradizione continuava a vivere e Ugone secondo ratificò le signorie concesse a Mariano anche nel 1335 nel suo testamento in pratica concesse a Mariano la signoria di Goceano con l'importante e strategico castello nei territori extra giudicali a nord e la signoria nella fertile curadoria di Marmilla con l'importante castello strategico per il confine meridionale del regno arborense dunque due posizioni chiave nello stato arborense nella parte storica è extra iudicatum al fratello minore Giovanni invece Ugone concesse la signoria di Monteacuto col castello appunto nei territori extra iudicatum e il piccolo castello di Barumele presso Ales dunque una signoria diciamo di un certo quel modo minore rispetto a quella di Mariano nel 1335 nasce anche il primo genito ed erede di Mariano Ugone con lo stesso nome appunto di suo nonno il futuro Ugone III e qui rivediamo l'architrave nell'ingresso laterale della chiesa di San Serafino Aguilarza dove è rappresentata la famiglia di Mariano a destra Timbora a sinistra col piccolo Ugone che viene presentato a San Serafino alla presenza del vescovo posizione strategica di questo architrave perché sta in una chiesa importante la chiesa di San Serafino Aguilarza sotto lo stemma del regno di Arborea l'albero deradicato e peduccio di tale architrave pare è stato recentemente proposto rappresenti Eleonora d'Arborea ma lo vedremo successivamente tra il 1341 e il 1347 nascono anche Eleonora e Beatrice per cui la discendenza di Mariano e Timbora sarà il figlio primogenito Ugone probabilmente Beatrice che nasce prima di Eleonora d'Arborea probabilmente e sposerà Amerigo VI di Narbona ed Eleonora d'Arborea che sposerà Brancaleone e Doria i figli di Eleonora e Brancaleone saranno Federico e Mariano tra il 1338 e il 1339 Pietro il cerimonioso conferì a Mariano il titolo di Conte di Goceano nei territori extrajudicatum cioè su quelli in cui poteva conferirgli tale titolo probabilmente si trattò anche di una provocazione nei confronti della sovranità arborense infatti nel 1339 quando Mariano ancora Donnichellu e signore di Marmilla e di Goceano commissionò la pala d'altare per la cattedrale di Ottana nel territorio appunto della signoria di Goceano fece scrivere nella dedica Frater Silvester Episcopus Octanensis cioè il vescovo di Ottana dal 1339 il frate Francescano Silvestro Dominus Marianus de Arborea Dominus Gociani et Mamilla Fecit Fieri cioè questa pala d'altare fu fatta fare dal vescovo Fra Silvestro e dal signore di Marmilla e di Goceano Mariano cioè Mariano si fa rappresentare in tutti i suoi attributi principeschi e soprattutto si fa appellare Dominus Dominus Gociani et Mamilla cioè signore di Goceano e di Marmilla con i titoli tradizionali in uso nel suo stato e non come conte di Goceano titolo che gli era già stato attribuito l'anno prima da Pietro IV quindi dal sovrano di un altro stato che da alleato stava diventando concorrente questa supposizione la facciamo perché nel 1340 il Castellano di Marmilla sottoposto quindi a Mariano compie un'azione praticamente di guerra nei confronti dei territori feudali nel regno di Sardegna quindi superando il confine di stato ai danni di del feudatario Guglielmo de Petra che era feudatario di Gergei e compie il Castellano di Marmilla questa incursione vexillo elevato manu armata et mente deliberata cioè col vexillo elevato in armi e con un piano ben determinato non si trattava quindi di una razzia qui vediamo il documento nell'archivio della Corona d'Aragona che con cui Pietro IV informa e redarduisce Mariano su quanto accaduto il Castellano di Marmilla in pratica superò i confini in una parte di territorio ben identificata del territorio di Giorgei per cui superando i confini statuali tra il regno di Arborea e i territori del regno di Sardegna e Corsica vediamo qui dalla Marmilla la curadoria di Siurgus quindi superando i confini statuali ben noti dice il documento quindi non era un'azione fatta per caso e non era una semplice razzia infatti questa incursione avvenne col vessillo elevato quindi una vera e propria azione di guerra il vessillo probabilmente non era quello del regno di Arborea cioè l'albero verde deradicato su Campobianco quello che abbiamo visto nella chiesa di San Serafino era forse l'albero della famiglia regnante l'albero verde deradicato su Campobianco affiancato o sottoposto o sovrapposto ai pali della corona d'Aragone in quanto alleati in pratica leggendola insieme a tutti gli altri elementi che abbiamo ricordato prima possiamo leggere questa iniziativa del Castellano di Marmilla di cui sicuramente Mariano IV era a conoscenza come rivendicazione della sovranità arborense nei confronti di un sempre più soffocante regno di Sardegna e Corsica nell'ambito della corona d'Aragone ma queste ma queste rivendicazioni di sovranità ci sono sempre state nel regno di Arborea fin dalle sue origini da quando Zerchis nel suo sigillo si dichiarava arconte di Arborea quindi indipendente da Calari o con tutte le operazioni di Barisone I che tenterà di farsi e si fece incoronare re di Sardegna o ancora quando Giovanni Chiano di Arborea agli inizi del Trecento dichiarerà di voler difendere con la spada i territori del regno di Arborea che i suoi predecessori avevano conquistato e governato o ancora con tutte queste azioni di Mariano prima come Donnichello poi come sovrano del regno di Arborea o ancora con la politica di Ugone III e infine icasticamente rappresentata nella lettera che Brancaleone Doria scrisse al governatore del regno di Sardegna e Corsica Joan de Montbuy nel 1393 dichiarando che il regno di Arborea non doveva ai catalani nessuna sovranità sui propri territori ma che questa sovranità ce l'avevano ce l'aveva sua moglie Eleonora d'Arborea in quanto erede di tutta la dinastia arborense che aveva governato il regno di Arborea fin dalle sue origini al principio del 1347 a meno di 33 anni e senza eredi morì Pietro III de Bassera fratello maggiore di Mariano e sovrano di Arborea considerato tutto quanto abbiamo detto finora considerata la forte tensione che esisteva tra Mariano e Pietro IV re di Sardegna e Corsica e sovrano della corona d'Aragona le circostanze della morte di Pietro III potrebbero apparire sospette comunque sia salì al trono il secondo genito Mariano IV che qui vediamo rappresentato con la corona in testa nella chiesa di San Gavino a San Gavino Monreale dopo alcuni anni di rapporti relativamente tranquilli nel 1353 Mariano IV inizia la guerra con l'ex alleata corona d'Aragona questa guerra contro gli ufficiali e i feudatari mai contro il sovrano aragonese venne accompagnata da una decisa azione propagandistica verso tutti i sardi fatta di esenzioni fiscali per chi passava dalla parte arborense di fondazione di nuovi centri e nuovi borghi di edificazioni di nuovi edifici religiosi o abbellimento degli esistenti di opere d'arte che tendevano a celebrare la dinastia regnante arborense la guerra scatenata nel 1353 si fermò una prima volta nel 1354 con una pace del tutto favorevole a Mariano IV e al regno di Arborea ma era una pace precaria tant'è che Mariano IV riprese la guerra nel 1364 la guerra continuò anche dopo la sua morte con la sola interruzione della pace del 1388 anche questa effimera per riprendere nel 1390 e terminare soltanto con la fine del regno di Arborea nel 1420 quindi una guerra quasi di cento anni se consideriamo poi tutte le attività belliche precedenti abbiamo un secolo pieno di guerra in questa situazione la moglie di Mariano Timbora del Rocabertì si venne a trovare in una posizione complicata e se vogliamo imbarazzante combattuta fra la patria d'origine la Catalogna quindi nella corona d'Aragone e il nuovo stato di cui aveva sposato le sorti il regno di Arborea ma non ebbe mai il minimo dubbio nel difendere le posizioni del marito sovrano del regno di Arborea per esempio nel 1353 rispose così agli ambasciatori dell'ammiraglio Bernat de Cabrera vi prometto che i primi a piangere del consiglio dato a Don Bernat sarete voi stessi e non passerà molto tempo che ve ne accorgerete una risposta che venne presa quasi come una profezia della precipitare degli eventi che stava per succedere convocata perentoriamente da Pietro IV non partecipò al Parlamento del Regno di Sardegna nel 1355 e non nominò nessun procuratore lei non era più una Rocca Bertì era un'Arborea Mariano IV tenne testa per quasi trent'anni alla più grande potenza mediterranea dell'epoca la Corona d'Aragona grazie a un'efficace strategia bellica grazie a un'abile politica economica grazie a una fita rete di alleanze euro-mediterranee grazie a un'abile politica di propaganda per il Regno di Arborea e la Dinastia Regnante grazie a tutto ciò riuscì a conquistare quasi tutta l'isola eccezione fatta per le città fortificate di Cagliari e di Alghero ben munite e rifornite dal mare probabilmente favorì questa lunga resistenza arborense alla Corona d'Aragona il fatto che la Corona d'Aragona era impegnata anche in altri ambiti militari nei suoi vasti domini Mariano morì a causa dell'ennesima epidemia di peste in una Sardegna stremata da decenni di guerra guerreggiata nel maggio del 1375 a lui successe il primo genito Ugone Ugone III che qui vediamo rappresentato con la figlioletta Benedetta in un altro peduccio della chiesa di San Gavino a San Gavino Monreale sempre con la Corona in testa e vediamo anche la campana che fece fondere conosciuta come campana della libertà di Ugone III ma in questa sede non ci soffermiamo su questo sovrano il 3 marzo del 1383 Ugone III con la figlioletta Benedetta sono assassinati in una rivolta popolare non meglio definita probabilmente animata delle fazioni interne in cui si stava sfaldando il regno di Arborea magari sobillata da qualche potenza esterna che voleva mettere le mani su questo regno qui appunto rivediamo il basso rilievo di San Gavino con Ugone III che stringe amorevolmente fra le sue braccia appunto sua figlia fatto sta che in queste torbide vicende in cui il regno di Arborea stava per implodere Eleonora d'Arborea prende le redini della situazione così scriverà tre mesi più tardi a Pietro il cerimonioso senza indugio passai in Sardegna e percorrendo a cavallo l'isola con l'aiuto dei miei buoni sardi e con il concorso dell'intero popolo sardo sottomisi alla mia autorità prendendone personale possesso come di diritto mi spettavano tutte le città le terre e i castelli appartenuti al mio suddetto fratello eccettuata a Sassari cosa avvenne probabilmente in questi concitati avvenimenti seguiti all'uccisione del legittimo sovrano Ugone III Eleonora che non sappiamo se fosse più grande o più piccola della sorella Beatrice venne scelta dai componenti della corona del logo del regno di Arborea venne chiamata a prendere il posto di Ugone in attesa della maggiore età dei suoi figli ed Eleonora che probabilmente era al corrente di tutte le vicende e le seguiva attentamente da Genova passò subito in Sardegna e prese possesso assieme ai suoi uomini fidati cioè agli uomini della corona del logo che detenevano il potere nella corona del logo di Arborea in quel momento prese possesso di tutte le terre del regno di Arborea che erano non solo quelle storiche ma praticamente quasi tutta la Sardegna quindi in questo momento Eleonora diviene iuighissa giudicessa di Arborea su di lei soprattutto esiste una vastissima letteratura la maggior parte della quale la ha rappresentata come eroina della Sardegna in quella continua ricerca mitopoietica che spesso stravolge la storia e allora è opportuno porci qualche domanda fu Eleonora la legislatrice che il mito ci ha tramandato qui la vediamo rappresentata in una ricostruzione ideale di Alberto Massaio cioè fu lei che scrisse e promulgò la carta del logo di Arborea oppure lei la ne pubblicò una nuova edizione aggiornata da esperti per certo sappiamo che tra il 1380 e il 1382 il fratello maggiore Hugone III de Bassera in quanto re di Arborea dopo aver conquistato Sassari adeguò gli statuti sassaresi e si riferì alla carta del logo del suo stato dicendo che il delitto il reato di omicidio a Sassari non prevedeva pene pecuniarie contrariamente a quanto previsto nella carta del logo lo dice esplicitamente quindi sappiamo per certo che almeno dieci anni prima la carta del logo di Arborea esisteva già ma verosimilmente la carta del logo esisteva fin dalle origini dello stato arborense probabilmente come consuetudine tramandata oralmente per poi essere scritta probabilmente nel 300 un'altra domanda Eleonora d'Arborea fu una bellissima eroina la bellissima eroina che il mito ci tramanda qui vediamo l'immagine dell'attrice Caterina Murino che interpreta appunto Eleonora d'Arborea in un film che mi pare probabilmente non è stato mai terminato e commercializzato era lei cioè quella bellissima legislatrice ed eroina che vediamo rappresentata nei quadri soprattutto nelle pitture nelle sculture soprattutto del XIX secolo qui per esempio in questo dipinto conservato presso il palazzo Campus Colonna a Oristano oppure nel dipinto di Antonio Cavoni del 1880 1881 ispirato al famoso ritratto di Giovanna la Pazza del 600 di Bartolomeo Castagnola che qualcuno volle attribuire a Eleonora d'Arborea e qualcuno ancora lo afferma oppure le due statue del 1881 quella di Vandalino Casu e quella del Fiorentino Ulisse Cambi che appunto rappresentano Eleonora una bellissima Eleonora d'Arborea legislatrice e condottiera nel 1984 il professor Francesco Cesare Casula con l'aiuto di un suo allievo scoprì ed identificò nei quattro peducci della chiesa di San Gavino a San Gavino a Monreale le effigi delle regnanti della casa regnante di Arborea nella seconda metà del 300 Eleonora d'Arborea appunto come abbiamo visto Mariano IV Ugone e il marito di Eleonora Brancaleone Doria il condottiero appunto della dell'esercito arborense nella seconda metà del 300 alla fine del 300 Eleonora d'Arborea in questo dettaglio particolare rappresentata in maniera realistica con una macchia sulla guancia destra quindi ben lontana da quella ideale di donna bellissima con cui dall'800 in poi è stata rappresentata e nell'effigie sotto l'architrave del San Serafino di Ghilazza si vuole riconoscere e in questa foto di Nicola Castangio lo vediamo benissimo si vuole riconoscere sempre Eleonora d'Arborea con questa macchia sulla guancia destra sia l'immagine di San Gavino poi ne vediamo un'altra di meno sicura attribuzione a Mogolo queste rappresentazioni dei regnanti della casa arborense nella seconda metà del 300 si trovano tutte in posizioni particolari come abbiamo visto in quello che è stato definito il panteon degli arborea vale a dire la chiesa di San Gavino a San Gavino Monreale vicinissima al castello di Monreale e questa entrata questo ingresso della chiesa di San Serafino a Ghilarza in una posizione ben visibile in questo caso sotto lo stemma arborense sotto l'architrave che rappresenta Mariano Timbora e Ugone e tutto ciò non dovrebbe sorprendere in pratica si trattava di una politica di comunicazione di autorrappresentazione in un momento difficile in cui la dinastia regnante doveva autorrappresentarsi di fronte al suo popolo e a tutti i sardi ma allora chi era questa Eleonora giudicessa di arborea nasce tra il 1341 e il 1347 e figlia appunto di Mariano IV de Basserra e di Timbora de Rocabertì i suoi fratelli sono Ugone e Beatrice il padre Mariano IV è sovrano di arborea dal 1347 al 1375 da principessa Donnichella risiede tra Oristano e il castello di Gocceano la madre Timbora fa in modo che anche le figlie Eleonora e Beatrice abbiano un'istruzione pari a quella del fratello si sposerà prima del 1376 con Branca Leone Doria il fratello maggiore Ugone III è sovrano di arborea tra il 1375 e 1383 in questi anni vive tra Castel Genovese residenza del marito Branca Leone Doria e Genova dove è accolta come una principessa di uno stato importante addirittura Genova paga per fare in modo che Eleonora e Branca Leone risiedano a Genova nascono da questo matrimonio due figli Federico e Mariano finché il 3 marzo del 1383 Ugone III con la figlioletta Benedetta sono assassinati a Oristano solo in questo momento Eleonora diventa protagonista del medioevo arborenza e sardo non perché sia unabile ed eroica condottiera non perché la sua bellezza sia straordinaria ma perché con suo marito Branca Leone Doria scende in campo nel lagone dei conflitti politici che hanno causato la morte di Ugone III e che ne sono derivati perché alla fine di questa contesa nel lagone della corona dell'Ugo di Arborea lei viene preferita come regina reggente dello stato in nome del figlio maggiore Federico da questo momento in poi Eleonora compare negli atti come regina reggente è la rappresentante e referente dello stato e in queste vesti lo guida firma la pace del 1388 dopo due anni di trattative con il regno di Sardegna e Corsica con la corona d'Aragona qui vediamo il lungo rotolo pergamenaceo contenente la pace del 1388 in una copia di due anni più tardi conservato presso l'archivio storico comunale di Cagliari da quel momento le operazioni militari sono condotte da suo marito Brancaleone Doria rappresentato anche in questo caso nel peduccio in uno dei quattro peducci dalla chiesa di San Gavino a San Gavino Monreale intorno al 1392 o meglio tra il 1390 e il 92 promulga una nuova edizione della carta del logo di Arborea con la maggiore età del figlio Mariano perché Federico non era sopravvissuto era morto prima di raggiungere la maggiore età con la maggiore età del figlio Mariano il secondo genito Eleonora torna dietro le quinte della storia perché Mariano col tit con l'ordinale di quinto diventa sovrano di Arborea dal 1393 al 1407 sempre affiancato al padre condottiero capitano Brancaleone Doria e resterà dietro le quinte della storia fino alla sua morte avvenuta tra la fine di maggio e il giugno del 1403 forse forse nel castello di Gocceano forse in quello di Monreale come per tutti i sovrani arborensi non abbiamo tracce dei loro luoghi di sepoltura lo stato che lei aveva retto e governato per dieci anni cesserà la sua esistenza lunga oltre 400 anni 17 anni dopo nel 1420 grazie dell'attenzione grazie